La struttura aziendale di O-Terrevision è impostata in una divisione in tre ambiti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la performance delle aziende attraverso dei risultati mirati sul revenue, sul marketing e sul web. Le tre aree sono altamente interfacciabili tra loro e la performance aziendale è curata attraverso strategie dedicate rispetto all'azienda, attraverso la cura dell'immagine della brand reputation, attraverso una piattaforma web che sia sempre aggiornata con le novità del momento. La filosofia aziendale è quella di umanizzare l'azienda. Chi decide di affidarsi a noi non deve sentirsi lontano dal concetto di miglioramento, dal concetto di performance. È fondamentale per noi capire che il proprietario dell'azienda è parte integrante del miglioramento che intende percorrere. Le novità con cui ci presentiamo in fiera sono diverse. In primis quest'anno abbiamo deciso di puntare sull'aspetto web con delle logiche informatiche più accattivanti e con un maggior interesse dedicato soprattutto all'aspetto del posizionamento su Google e ovviamente all'allargamento della spiegazione dei servizi che intendiamo offrire alle nostre strutture partner. Gli obiettivi e progetti futuri di Otelevision sono soprattutto collegati al processo di internazionalizzazione dell'azienda. È fondamentale per noi crescere e mostrare quelli che sono i nostri servizi e quello che possiamo offrire il concetto di umanizzazione dell'azienda anche all'estero. Otelevision sta costruendo la sua reputazione e sta allargando la sua immagine anche al di fuori dei confini nazionali e stiamo lavorando per questo grazie al nostro staff. Grazie a tutti.